Ciao ragazzi, oggi siamo sul lago Maggiore, una giornata propensa alla pesca del luccio, proveremo a pescare soltanto con esche gigantesche, praticamente roba dai 400 grammi in su, abbiamo una selezione di pochissime esche selezionate, una sola canna e l'obiettivo di prendere un solo pesce, possibilmente sopra i 110, quindi siamo consapevoli che probabilmente non riusciremo oggi a concludere la missione, vi faremo vedere un po' tutti gli insuccessi e speriamo di arrivare a un buon risultato. Praticamente queste sono le prime esche con cui partirò, sono della Savage Gear, sono esche da 420 grammi e 4,40, questa qui ovviamente va sotto di più, quindi più pesante. Questa qui è la Big Nasty delle Sankora, sebbene sia indicata come otto once, ci posso lanciare tranquillamente il mio cane. Per battere delle piane molto lunghe, al posto di lanciare che ci si ammazza inutilmente, faccio un po' di traina con l'elettrico, mi ha dato fuori una quarantina di metri, almeno riesco a sondare queste piane senza degli ostacoli, senza niente, però... Ce l'ho! Sì, è un bel pesce, Vito. Cazzo, Vito. È un mostro questo. Pesce molto grosso, ragazzi. Sì. È rimasto proprio fermo, di solito quando fanno così, sono pesci importanti. Temo che possa essere proprio un siluro, però. Sei un luce o un mostro? No, cazzo! Sei slamato! Mi tremano le gambe, Vito. Ti giuro. Era un luccio. Guarda. Era un mega luccio. Era nuova, assolutamente nuova. Guarda, l'ha aperta completamente. Vabbè, primo tentativo, prime ore di pesca. Potevamo aver centrato subito il bersaglio, si è slamato veramente a cinque metri da noi. Però questo ci fa capire che questi pesci sono dove li stiamo cercando, che sono molto interessate le nostre esche. Bisogna solo insistere. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ah perfetto così bene ok la testa è un po' andata bene ragazzi per oggi la chiudiamo qua ci proveremo tra qualche giorno abbiamo avuto l'occasione d'oro abbiamo attaccato uno dei pesci più grossi che abbiamo mai avuto in canna a livello di luci si è slamato va bene fa parte del gioco purtroppo con i luci all'ordine del giorno però questa è una pesca di dedizione di fatica di mille lanci sapevamo che potevamo cappottare che era molto più probabile un cappotto che un successo e così è stato per cui lo prendiamo lo portiamo a casa e restate con noi eccoci ragazzi secondo giorno secondo tentativo oggi la giornata è decisamente più fresca ha messo giù anche parecchia neve sulle montagne il freddo è proprio pungente sulle mani per cui la condizione è quella giusta bisogna insistere essere motivati sperare appunto di avere qualche interazione oggi non bisogna lasciarsi abbattere dagli insuccessi perché siamo super selettivi stiamo cercando un solo pesce molto grosso quindi bisogna insistere e il cappotto fa parte del gioco un bel luccione stiamo cercando il cannibale eccolo 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 guardalo guardalo cazzo che bello dai 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 no porca troia te lo devi mangiare cazzo no ragazzi ci ha seguito veramente un pescione ci ha visto ed è scappato gli era veramente incollato vaffanculo poi ci sono anche urbano eh ma oh ah ma ah 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 Oh cazzo 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 Fanculo ragazzi un pesce della madonna Cazzo che follo è porco diaz Mi sembrava anche bello motivato Porco diaz ragazzi un pescione della madonna Arrivato inchiodato all'esca Veramente 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 vicino Ok ragazzi oggi è andata male Però appunto ce lo possiamo anche aspettare Visto che sono stati veramente molto selettivi Quelle esche che stiamo utilizzando Sta iniziando a piovere Manca poco più di una mezz'ora di luce E rientriamo Ci proviamo tra qualche giorno Speriamo di essere più fortunati Da Toni e la bottatrice è tutto State con noi Un nuovo giorno ragazzi Oggi faremo uno spostamento lungo Andiamo tutt'altra parte di lago Nell'alto lago Proviamo a vedere Se riusciamo a trovare finalmente Quello che stiamo cercando Come vedete È molto molto dura Riuscire in questa cosa Bisogna dedicarci tempo Pazienza Bisogna spaccarsi letteralmente le braccia Sta diventando veramente pesante Anche per le temperature Adesso ci sono 4 gradi E man mano farà sempre più freddo Speriamo che oggi quindi sia la volta buona Questa è una zona di lago Decisamente più fonda Per cui Partirò sicuramente con una bella Bottatrice Da 50 cm Così Bel fire tiger Ci mancava solo la pioggia ragazzi Ci sono 5 gradi Vento gelido Fino un attimo fa Stiamo lanciando esche Che ti spaccano letteralmente Braccia schiene Tutto quanto La pioggia era proprio Quello che ci mancava Grazie Gesù Cristo Grazie Grazie a tutti Siamo veramente distrutto, ho le braccia devastate, mal di testa, sono male un ginocchio, è veramente dura. Adesso provo a innescare uno shadone da 32 centimetri, questo è il Black Shad di Black Bay che pesa un 220 grammi, Stinger Rig del 4.0, eccoci. Ce l'ho, un grosso, è un belluccio ragazzi, è un grosso. Sì, oh ragazzi, sì, sì cazzo, sì, un bellissimo pesce, un bellissimo pesce ragazzi, cazzo. Eccola qua ragazzi, la ragione dei nostri sforzi è finalmente arrivata, e ci ripaga appieno proprio di tutta la fatica fatta. sono troppo contento, poi su questo lago è un pesce pesantissimo, in formissima, troppo troppo soddisfatto. cazzo. Ciao bello! Grazie mille! Woohoo! Ragazzi, tantissima roba. sono in estasi, perché eravamo arrivati agli sgoccioli, oggi già faceva molto freddo, e andare avanti sarebbe stata sempre più dura. come avete visto la costanza paga, per cui se credete in qualcosa, insistete, sicuramente riuscirete. Grazie infinite per essere arrivati fino a qua, se questo video ti è piaciuto lascia un like, facci sapere cosa ne pensi nei commenti, non dimenticarti di iscriverti, di attivare anche la campanina delle notifiche, e ci vediamo prestissimo con un nuovo super video.